Perfetto, vi voglio solo vedere ragazzi, purtroppo, per le regole, non puo' possa manco tu qua, purtroppo viviamo in un periodo, come si dice, un periodo di... Un periodo di... L'avete detto voi, non ci dite niente. Ok, ok, ragazzi, io sono venuto solo a salutare, ritorno al proprio posto, salve, come va? Buonasera, mettila... Buonasera. Buonasera a te. Salve, come va? Che ne pensi di Leporano? Ma Leporano è la vita mia, si dice Leporano è il pacchetto di... Vuoi vedere Leporano come reagisce? Quando faccio rap a Leporano, la raposa... Leporano reagisce alla grande. Il calore del sud. Sei venuto qui al loro festival di Sanremo per cantare quale canzone? Beh, io non sono un cantante. Non fa niente, canta una canzone. Ah, non mi mettono in i barattoli. Che sarà, che sarà, che sarà... Un applauso ad Alejandro Patti! Ci vedo, ci vedo. Che ti vuoi questo? Telesud, Telesud. A di fu, noi non a Jack, come a te. Telesud, Luigi Abate Production e Communication. Buona, ma tutto il suo nome, così voglio. No, Telesud e le... Canale, te ne faccio qui, Telesud. Ok. Io te ne do sempre di più. Un saluto ai ragazzi puntuali come l'orologio a cucù. Trebettino rappresenta e alza con la gru. Faccio un saluto a Leporano ai ragazzi di Telesud. Bello avrete capito, siamo con Clementino, l'estate leporanese, qui nell'area mercatale di Leporano, tanto entusiasmo, tanta gioia, tanta voglia di divertirsi insieme a Clementino. Ma solo. Clementino che è attaccato, ieri ha guai, si sente troppo bene, il suono make noise, vado bene sulla sedia di The Voice. Continua in giù a mecca, ma non è Clementino che ha te sfondo fino a regge in casetta. Livello estremo, no, no, vai. Buona sera a tutti, Clementino Rap Freestyle. Livello. 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 Fantastico. Ma siete fantastici ragazzi. Oh, vi fate sentire, guagliù, ci siete? Eh? 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 Come tutti sapete, l'amministrazione comunale di Leporano si è sciolta, ma questi eventi sono stati organizzati dall'amministrazione Damiano, tutto il cartello dell'estate leporanese. E siamo qui con il dottor Vincenzo Damiano, fino a qualche giorno fa, primo cittadino di Leporano. E allora, dottor Damiano, la presenza di Clementino ha calamitato davvero il primo cittadino di Leporano. Ovvero la partecipazione, l'entusiasmo di tantissima gente proveniente da vari punti della regione Puglia. Eh? Beh, è una soddisfazione vedere così la gente che riprende i propri spazi di vita. Ed è un modo per, come dire, assecondare una fetta di pubblico che ama questo genere musicale. Sì, sicuramente Luigi, è una soddisfazione per noi, per me, per Yolanda, che abbiamo organizzato questo cartellone molto vasto dell'estate leporanese 2021. 2021 è giusto, nonostante gli eventi politici avversi, che l'estate leporanese continui. E noi vogliamo che continui per i nostri concittadini, per tutti i cittadini della provincia e della regione. E oltre che questa sera sono qui, sono qui a divertirsi. Vedi, l'area mercatale è praticamente piena, da gente felice e vuole godere questo spettacolo. Dopo un periodo difficile legato alla pandemia, come ho avuto modo di dire più volte in queste ultime settimane, e fortunatamente leporano è ancora covid free, ti do l'ultimo dato che non ho ancora pubblicato e l'ultimo report della prefettura di ieri conferma che leporano è covid free. E diciamo, in questo modo noi vogliamo continuare a far divertire la gente e stasera, diciamo, questo è l'esempio. Ecco, la gente è contenta. Il risultato più bello? La partecipazione? Per me è una grande soddisfazione vedere la gente che partecipa, la gente che si diverte. Quindi andiamo avanti, ci saranno tanti altri eventi e, ripeto, il cartellone lo abbiamo organizzato noi, ma l'estate leporanese è di tutti i cittadini di Leporano. Eh sì, purtroppo Viviamo in un'era un pochino strana. E sono troppo amabile. Assieme a Wajun, la capitale fino a Pascio o Tevora. Il nome è Clemente, non saluto a Wajun, Roponte e Cirevole. Yeah, sai! Arriva a notte in plena il lunio. Al genistra Tarant, abbracciato con Vesuvio. Non c'è stanno problemi. Arriva che la famiglia. Non ci scordiamo che siamo. O regno è il tuo in Sicilia. Yeah! Yeah! Allora, noi partiamo con un po' di pezzi pesanti. Che magari qualcuno dice. E poi facciamo finire i punti tranquilli. Le mani tutti i cantici. Stavo movitando dopo la tua semissione, se qui sotto la semissione, ma non mi sono mai fuori. Avete rovinato la regenerazione, nessuna venerazione vicina alla ripresione. Avremo nel niente, quattro piedi, gesto, porano, reddito. La dottoressa Yolanda Lotta, già assessore agli spettacoli, al turismo e alla cultura del comune di Leporano. Questa sera un altro bagno di folla, una estate leporanese che sta riscuotendo un successo di pubblico enorme, considerando che c'è una partecipazione di varie persone provenienti non solo da Leporano, ma da tutta la provincia di Taranto e da altre parti della regione. Sì, diciamo che stiamo portando avanti questa programmazione che è iniziata con l'amministrazione Damiano, stasera ci troviamo qui con Clementino, 40 appuntamenti dell'estate rivivi l'estate leporanese a Leporano. Ci sono tanti, tanti, tanti giovani che arrivano da tutte le parti d'Italia per vedere Clementino. Siamo soddisfattissimi. Grandissimo successo. L'estate rivivi l'estate leporanese continua. Abbiamo anche altri appuntamenti. Il 22 voglio ricordare Donna dei Due Mari, che è qui con me l'organizzatrice di questo evento, che sarà un evento che vogliamo dare anche un appuntamento. Noi sui palcoscenici con cazzo e gremi, noi i master chef, master scemi. Il capo dei capi, voi capi di cast, non me lo sapete, sti capi del cast, capi da che poi non cambia la danza, in cima del rap non capita un cazzo. Boca a boca, io lo tocca, tocca nella bocca a bocca, forse arriverà. E la storia scompicola del bocca, se si foca un po' tra, come la roca fra. Se ci ho torato, quando sono tornato, sono contornato, ci ho portato, sono tornato, detto non scoppiamo. Rap toccolato, è come che dici. Suona chi? Gruta, chi? 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 Suta, vieni in strada, chi si fuma, resto come buffa, chi? Tutta! Perchè in casa, di me la campagna, dove la torna levo, direttore le cari sono, per lo sole calde, direccano, fai un po' ma basta con fuoco, fin se resta rocco, quella è ma la bocca, la mia faccia, guarda flow, la tua faccia, guarda flow, guarda un po', la canzone e ti mando a casa, avanzone, basta che carichiamo, ascolto il nastro di califano, master in castro pendenti, siete come il pastor del capitano, perdenti! rispetto gli uomini che vanno a donne, rispetto le donne che vanno a uomini rispetto gli uomini che vanno a uomini, rispetto le donne che vanno a donne contro le uomini che piggiamo donne, contro le donne che piggiamo uomini ma correndo l'idea su donne, uomini che vanno a uomini e donne le risa fatti, così la smetti, fatti fatti fatti, la procuranza sai che è l'arma migliore ma caccia il culo, un po' di cacere di me, c'è un po' di pace, infatti io c'entro mi farei commentare questo culo c'entro, sono caldi fuori, ma fammo che dentro senza una risata come il papa vicino a Trump, bada che stasera te lo spicco in rap faccio maledetto fra calicola, timo dopo di smotto tipo piccolas I'm fine, polizai, marzai, te ne vai, letla è per... Bel campana dai, tu velai, che ne sai, sulla strada best fight, yeah no wifi 70.000 di chili di blocco, come le scosse di magnitudo non ci provare a tu fare lo show che col flow, salto dal culo che la dole sta, che sembra di... si a terra, ma terra di giudo da lui ci manda il tuo whatsapp tatami, manchiato nel tuo sacco è scuro la dieta che viene dall'area del vivo, il rap è il più forte in Italia dal vivo il bomber potente da iocca buonito, un rabbo che grida clemente il marito era il manito con la zunana, madonna, qui napoli l'animo e fa... croce del popolo, con il del popolo, l'amore è il più forte, l'amore è il più forte l'amore è il più forte, l'amore è il più forte pari all'america, vanno cari e carevano, valucine che stellica fa una cosa che merita, poi c'è un foto cutentino, vanno fuori con l'epica il tuo tale è bro, sui partali è bro, le manichi su di... sono l'incarnazione dell'anima di Puccinella ti passi la macchina fuori controllo ma spenta ti ribalto nell'alto dei cieli correndo in diretta il mio disco è fiatteso di un torno, belenna e diletta vino causando caporto l'un dana, montata all'armata, passamma che trai l'alander grande o puntata, regarano gara e chi non te ne vado quadratta ringraziamo i cinocchia, buon paparaga puccia, buon e frizz e sti rap per oggi sarei chiedi, ragga durano sordo, aiuto una tesi faccio dissing a tutta la scena, non ci credere tutta la scena coccano uno ma fare, ammunezza per strada, bravo, te spezzi e cavallo ci boccasca per la lasca, bro, stiamo a basceri da nuvascia, go ma non lascio stupi capace, amore, sono cresciuto Beh, questa sera un bagno di folla ma sicuramente col tuo evento che ormai è un classico ci sarà davvero di... ci avvicineremo alla fine dell'estate e fine agosto e quindi un'occasione per stare tutti insieme e per premiare le eccellenze femminili del territorio Assolutamente sì, un impegno grandissimo di questa amministrazione soprattutto dell'assessorato alla cultura e al turismo che ha fortemente voluto Donna dei Due Mari che ritornasse nel comune di Leporano alla sua quattordicesima edizione si premeriano le eccellenze, le donne che si sono distinte nel mondo della cultura della socialità, nel mondo dell'imprenditoria sempre al fianco dell'amministrazione comunale ma soprattutto al fianco di queste donne che lavorano in tutti questi settori oltre che un momento di grande spettacolo nel rispetto delle misure anti-covid saremo ospiti nell'altro del Castello Muscettola con uno spettacolo bellissimo che affiancherà al premio anche le sfilate di moda, i balletti, la danza, la musica e tutto quello che è di bello ci dobbiamo ritornare a rivivere proprio come questa sera nel concerto di Clementino Sicuramente abbiamo un'organizzazione eccellente vorrei fare un ringraziamento alla protezione civile alla security e a tutti coloro che si sono impegnati affinché questa manifestazione riuscisse nel rispetto del covid e nel rispetto anche dell'istanziamento veramente un'organizzazione eccellente e nel rispetto anche di un'organizzazione eccellente Siamo incauta a Napoli, arriviamo per l'infinito Creme sta per pilar, sui nostri vestiti A cagare le creature, chi fa ma più longa Le giorni ha consumato, il filtro blando è pure poca Non lo so, non lo so Rapida, passiamo a casa, notte da bella, fama, vada Nel calma, maniassa, vada, vada, crevita, sapete Sto in fondata, vada, ma carico blando Non si conta, puto vaga Oh, c'è un risoluzione Le mani, le mani, le mani, le mani Le350 V moderno La sua amica è con lui Il superbino Il fairly forte Comemo, the forme, c'è mercato Butte tantissimo In una nuova Loro Di lì Dì Antonella Falcioni, presidente della Proloco di Leporano, la Proloco presente nel suo supporto all'organizzazione di questi eventi e questa sera non potevate non mancare con Clementino, una grande affluenza di pubblico ben gestita, organizzata. Sì, anche questa sera la Proloco è protagonista di un'importanza notevole, un evento aperto più che altro al pubblico giovanile. E non solo giovanile, vedo anche gente giovanile nello spirito, non nell'anagrafe, di mezza età anche. I genitori che accompagnano i ragazzi, quindi c'è anche questa bella partecipazione della famiglia. Che dire, noi siamo davvero felici del lavoro che abbiamo svolto. In un periodo particolare abbiamo visto intanto il risveglio o proprio la necessità della popolazione a partecipare. La ripartenza, la partecipazione abbastanza viva della cittadinanza ma del turista in generale. Abbiamo cercato di organizzare al meglio il tutto, quindi abbiamo partecipato ai tavoli tecnici con l'ingegnere, e tutto lo staff della security. Abbiamo raccolto adesioni, registrazioni, per cui dal punto di vista proprio della sicurezza pandemica il nostro lavoro è stato svolto davvero al meglio. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. E naturalmente l'estate leporanese continua tra eventi di cultura, di spettacolo e quant'altro proprio nell'ottica di assecondare le varie sensibilità, i vari gusti. Certo, intanto ieri sera abbiamo avuto l'orchestra Mancina che sono stati spettacolari davvero. Poi avremo i Palasport, la cover originale debut sabato. Anche lì c'è un lavoro organizzativo importante perché si accederà solo con il Green Pass, per cui le prenotazioni le faremo direttamente in serata e c'è una grande richiesta da parte del turista, della popolazione. Non solo, ma cercheremo poi di portare avanti la nostra rassegna cinematografica come Proloco. E chiuderemo con il Satirium per l'archeologia che è il nostro... Settembre in grande stile. Fiore all'occhiello della Proloco. Io vorrei fare un applauso ad un ragazzo che sta venendo da Calgary, che è Montrè, Toronto, Toronto, Canada. Fate un applauso a questo signore. Grazie ragazzi, grazie mille, è un piacere. Aspetta, voi mi chiedete, come mai lui parla così bene in italiano? Spiega perché? Perché mo' di parte il boato. No certo, entrambi i miei genitori sono di Taranto, sono di qui. Grazie ragazzi, grazie mille. Grazie fratello mio, grazie. Ha seguito lo suo Instagram, Versus ha collaborato con tanti rapper americani, è fortissimo. E l'ho voluto qui sul palco di Leporano, Taranto. Grazie Versus!